Ho scritto un libro su Heidegger perché Heidegger è stato senz'altro il più grande filosofo del secolo scorso e lo testimoniano le migliaia, dico migliaia, non mi sto sbagliando, di saggi che sono stati scritti su di lui in tutte le lingue, francese, italiano, tedesco, spagnolo, americano, giapponese e allora qualche ragione per cui tutti quanti si sono rivolti ad Heidegger o per accusarlo o per confutarlo o per utilizzarlo a interlocuire con lui vuol dire che effettivamente il suo pensiero è stato un pensiero decisivo. E cosa pensa Heidegger? Pensa che a partire da Platone tutta la filosofia non ha fatto altro che preoccuparsi di salvare le cose del mondo e metterle a disposizione dell'uomo. E questa dimensione lui la chiama metafisica. Metafisica è appunto la storia del pensiero occidentale a partire da Platone e con Platone occorre fare i conti, perché come dice Heidegger, tutta la filosofia può essere considerata semplicemente un grande commento a Platone. E l'intento di Platone era detta in greco «souza in ta phaenomena», salvare i fenomeni, salvare le cose del mondo dalla possibile rapina del nulla. E per questa ragione Platone organizza la visione del mondo su due scenari. Un scenario di eternità che lui chiama iperoragno, dove ci sono le idee, e uno scenario del mondo sensibile dove le cose imitano le idee. Può sembrare un discorso difficile ma non lo è tanto, per dire che questo terreno è triangolare o che questo tavolo è rettangolare, io devo avere l'idea di rettangolo e dell'idea di triangolo, perché se non ho queste idee come faccio a dire che è triangolare, che è rettangolare. Allora il mondo è una coppia del mondo delle idee e il mondo delle idee non è il mondo sensibile dove ci sono le cose, ma è un mondo sopraceleste che lui chiama iperoragno, al di là del cielo, dove un giorno l'anima che ha conosciuto tutte le idee abitava e a seguito di una caduta è stata imprigionata nel corpo per cui noi oggi conosciamo le cose grazie ai sensi. Però a Platone interessa una cosa molto importante, da questo punto di vista non ha tutti i torti. Noi non possiamo fidarci dei sensi per costruire un sapere universale e valido per tutti, perché dovessimo misurare la temperatura di qualsiasi ambiente e dovessimo riferirci ai sensi di coloro che sono in questo ambiente, avremmo tante temperature quante sono i nostri corpi, per cui per raggiungere un pensiero, una conoscenza universale e valida per tutti abbiamo bisogno non tanto dall'informazione corporea quanto delle idee. Platone le aveva collocate sopra il cielo, oggi noi potremmo dire i costrutti della mente, per cui bisogna pensare attraverso numeri, idee, misure, quantità, qualità, pesi. Ecco, queste sono le configurazioni con cui Platone organizza quello che d'orinanza si chiamerà metafisica. Perché? Metafisica perché le idee sono al di là del mondo fisico, metà vuol dire al di là del mondo fisico. Di per sé la parola metafisica nasce da un caso particolare. Nella biblioteca di Alessandria, i libri di metafisica di Aristotele venivano dopo quelli di fisica e allora metata fisica, quelli dopo di fisica sono di metafisica, sono quelli che vengono dopo. Quindi una denominazione semplicemente di catalogo bibliotecario. Poi la parola ha assunto un significato molto più potente, molto più significativo. Metafisica è pensare che c'è un al di là dove ci sono le idee che sono il modello, la misura, la regola per leggere le cose. Questo Platone è il quale ha inventato l'anima. L'anima non appartiene alla cultura giudaico-cristiana. I giudei non avevano la più pallida idea di anima e tantomeno i cristiani. Ne è prova il fatto che i cristiani quando, nonostante siano convinti di avere un'anima e che quest'anima sia immortale, quando recitano il credo, cosa dicono? Non credono nell'immortalità dell'anima ma nella risurrezione dei corpi. Perché il cristianesimo è innanzitutto incarnazione, è il figlio di Dio che si fa uomo, che nasce, cresce, predica, muore, risorge. È una religione dei corpi, attestato anche dall'iconografia. Se è vero che solo le chiese cristiane rappresentano corpi nelle immagini che noi ammiriamo nelle chiese, mentre le altre due religioni monoteiste, l'ebraismo e l'islam, non prevedono corpi nei loro templi. Le sinagoghe hanno semplicemente delle citazioni tratte dalla Bibbia, così come le moschee hanno citazioni tratte dal Corano. Successivamente, a partire dal 400 d.C., Agostino preleva la nozione di anima da Platone e la inserisce però in un altro scenario. Platone l'aveva introdotta per un problema di conoscenza, per giungere ad una conoscenza universale e valida per tutti. Agostino la trasferisce in un altro scenario che è lo scenario della salvezza, per cui oltre al corpo noi abbiamo un'anima, il corpo è corruttibile, l'anima è incorruttibile. Nell'anima si rivela, dice Agostino, Cristo, Dio, la verità e organizza anche una visione della società come città terrena che al pari del corpo è corruttibile, è una città celeste incorruttibile ed eterna. Questa impostazione di Agostino è diventata la forma con cui ancora oggi pensiamo di avere un'anima e un corpo. In realtà, nella tradizione cristiana, questa concezione dell'anima proprio non ha giustificazioni. Con il cristianesimo, chi garantisce le cose dalla possibile rapina del nulla? Non più le idee di Platone, ma Dio. Ecco, c'è un immutabile Dio che decide quando le cose sono e quando le cose non sono. E attraverso il riferimento a Dio le cose vengono in qualche modo salvaguardate. Questa dimensione prosegue successivamente con Cartesio, il quale inventando la scienza, la scienza garantisce le cose del mondo e a maggior ragione la tecnica. Perché la tecnica che cosa fa? Innanzitutto garantisce le cose che ci sono. Quando poi queste cose vengono consumate, ricondotte al nulla, vengono riprodotte. Per cui la tecnica, a parere di Heidegger, è la forma più alta, l'estrema, la più garantita e la più garante soprattutto della salvaguardia delle cose del mondo. Ora, noi oggi viviamo nell'età della tecnica e a questo proposito Heidegger ha le idee chiarissime. E in una intervista che ha rilasciato al direttore di Dar Spiegel nel 1966, scrive una frase che vi leggo. Tutto funziona, dice Heidegger. Questo è appunto l'inquietante, che tutto funziona e che il funzionare spinge sempre verso un ulteriore funzionare e che la tecnica strappa e sradica l'uomo sempre più dalla terra. Non so se l'è spaventato, chiede Heidegger al suo intervistatore. Io in ogni caso lo sono stato appena ho visto le fotografie della terra scattate dalla luna. Non c'è bisogno della bomba atomica. Lo sradicamento dell'uomo è già fatto. Tutto ciò che resta è una situazione puramente tecnica, non è più la terra quella su cui oggi l'uomo vive. Bene, la tecnica da che cosa è caratterizzata? A parere di Heidegger è caratterizzata da una qualità di pensiero che lui definisce pensiero calcolante, pensiero come calcolo, calcoli economici, calcoli tecnici. E nel 1952 dice, ribadendo il concetto che poi espliciterà nell'intervista al direttore dello speaker che ho appena letto, dirà, inquietante non è il fatto che l'intero pianeta si risolva in un enorme apparato tecnico. Ancora più inquietante, scrive Heidegger, che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma ancora più inquietante, siamo al terzo grado di inquietudine e che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero che sa far solo di conto, un pensiero che sa solo calcolare, in tedesco Denken als Reikman. Ora, questa denuncia mi pare l'essenza e la miglior visione della cultura contemporanea. L'unico pensiero che noi abbiamo è un pensiero che sa far solo di calcolo, non abbiamo un pensiero che sappia capire anche più che cos'è il bello, che cos'è il buono, che cos'è il giusto, che cos'è il vero, che cos'è il santo. Abbiamo solo un pensiero capace di percepire solo ciò che è utile. Inutile è ciò che non è utile ad altro perché ha valori in se stesso. Inutile per esempio è l'amore, quando non è un amore di interesse, utile. inutile è la bellezza che non è utile ad alcunché, ma è un valore in sé. Ora tutte queste dimensioni vengono sostanzialmente trascurate dalla nostra cultura. Anche l'opera d'arte diventa arte non quando esprime una qualche bellezza, ma diventa arte semplicemente quando entra nel mercato e allora ancora una volta viene assoggettata al pensiero che calcola, che fa di conto, che guarda l'utilità, che guarda il profitto. Questa situazione è stata denunciata da Heidegger con una chiarezza estrema. Come se ne esce? Heidegger dice purtroppo il problema a cui si pone in maniera molto seria, dovuto al fatto che non abbiamo un linguaggio alternativo al linguaggio della metafisica. Il linguaggio della metafisica era un linguaggio che si proponeva unicamente di salvare le cose del mondo. E questo linguaggio, incominciato da Platone, proseguito nel Medioevo, riformulato in maniera ancora più stringente da Cartesio, il quale dice che con la scienza l'uomo diventa padrone e possessore del mondo, maître et possesseur du monde. E qui potremmo dire che l'essenza dell'umanesimo, che di solito siamo abituati a concepire come adiacento, se non addirittura antitetico al sapere scientifico, l'essenza dell'umanesimo è proprio la scienza, anzi la tecno-scienza, perché attraverso la tecno-scienza l'uomo diventa padrone e signore del mondo. Quindi non solo si riconferma l'intenzione metafisica di salvare le cose del mondo, ma soprattutto si conferma che lo scopo della filosofia fino ad adesso non è stato altro che irrobustire sempre di più l'intenzione di Platone di rendere l'uomo padrone del mondo. Bene, di fronte a questa dimensione, dice Heidegger, come facciamo a riscattarci? C'è un primo inizio, dice Heidegger, l'inizio dei filosofi che sono nati prima di Platone e che si sono occupati della natura, non concependola come il pensiero calcolante fa oggi che la concepisce come materia prima, ma concependola come quell'orizzonte immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece, sempre stata, è e sarà. Questa natura oggi viene riguardata solo dal punto di vista del suo sfruttamento e non più come terra di abitazione dell'uomo. È una natura che confligge con l'utilizzo che ne fa la tecnica, non da sempre, perché all'inizio la tecnica era modesta e quando Eschilo nel Prometeo incatenato, fa chiedere da parte del coro a Prometeo, dimmi, è più forte la tecnica o più forte la legge che governa la natura? Prometeo risponde in una maniera chiarissima, lui che aveva dato la tecnica a Giuomini dice, tecne bananches astenestera macro. La tecnica è di gran lunga più debole, astenestera vuol dire debolezza, astenia, è più debole delle leggi che governano la natura. E allora tutto è tranquillo, perché la natura continua ad avere la sua dominanza rispetto all'operare umano. Oggi non è più così. L'operare umano non è più un enclave all'interno della natura, ma è la natura che è diventato un enclave all'interno di una dimensione sostanzialmente tecnica, demograficamente imponente, con trasmigrazione della popolazione dalla terra alle città e alle metropoli sempre più numerose e la natura si è ridotta a piccole enclave all'interno di queste città. Bene, la natura è lo sfondo a cui fare riferimento, dice Heidegger. La natura è intesa come sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio fece. Noi abbiamo capovolto le cose e l'uomo che invece è diventato signore padrone della natura. E allora noi non abitiamo più nella natura, ma come ho letto in quella pagina con cui Heidegger risponde al direttore del Der Spiegel, noi abitiamo la tecnica, la tecnica è diventata la nostra casa e l'uomo è stato sradicato dalla natura. Questo sradicamento, dice Heidegger, è molto più pericoloso della bomba atomica, perché è un'impostazione mentale, è quello di guardare l'universo solo sotto il profilo della utilità. Bene, i filosofi che sono venuti prima di Platone sono i filosofi del primo inizio, quando la verità era concepita come manifestazione. La parola greca è alezzeia. Lezze in greco lette vuol dire nascosto. Anche noi italiani abbiamo le parole latitante, letargo. Alezzeia, alfa privativo, vuol dire non nascosto, quindi manifesto. La verità è il manifestarsi dell'essere, della natura, di ciò che appare e di ciò che si rende visibile. Noi oggi abbiamo tutto un altro concetto di verità e la verità la misuriamo sull'efficacia. Vero è ciò che è efficace, ciò che produce risultati, ciò che raggiunge gli obiettivi che l'uomo si è proposto. E allora sotto questo profilo abbiamo una inversione del rapporto della verità, non più la visione della natura, ma l'efficacia del nostro operare. Il primo inizio rivendicava la verità come manifestazione. Rivendicava il logos, il pensiero, che consisteva nel guardare e nel contemplare e nel costruire teorie per riuscire a catturare le costanti della natura, all'unico scopo di costruire una città secondo natura e la condotta della vita umana secondo natura. Tutto questo con Platone si chiude. Questo primo inizio si chiude con Platone e questa chiusura rimane tale per tutto il corso dell'Occidente. A denunciare questo travisamento, questa smobilizzazione del concetto antico di verità, prima di Heidegger è stato Nietzsche, il quale ha detto sono ancora alla ricerca di un filosofo medico. Medico vuol dire che vuole curare una cultura, una mentalità. Sono ancora alla ricerca di un filosofo medico che sappia portare al culmine il mio sospetto, che in ogni filosofare, quindi in tutta la storia della metafisica che coincide con la storia della filosofia, nel mio filosofare non si è mai trattato di verità, ma di sviluppo, avvenire, potenza, vita. Cioè ciò che stava a cuore all'uomo era assicurare la propria vita, assicurare le cose che gli servono per vivere, garantirsi la sussistenza in questo mondo attraverso la disponibilità di tutte le cose. E mentre la tecnica antica si limitava ad assecondare la natura, per cui il murino sfruttava il vento per muovere le sue pale, oggi invece la tecnica non si accontenta di sfruttare la natura, ma gli interessa accumulare ciò che ottiene da questo sfruttamento. Vale a dire, non si limita a usare ciò che la natura offre, ma a incamerare i risultati offerti dallo sfruttamento tecnico della natura per averli sempre a disposizione. L'essere a questo punto non è più la natura, ma come dice Heidegger, il bestand. Bestand è una parola tedesca che sta a significare deposito, è il deposito, è il magazzino, è la disponibilità delle cose in qualsiasi momento, non solo quando la natura le offre come offre il vento per far girare le pale del mulino, ma a disposizione ogni qualvolta l'uomo abbia intenzione di utilizzarle. Per un nuovo inizio, dice Heidegger, non possiamo usare il linguaggio della metafisica, perché il linguaggio della metafisica è un linguaggio appropriante, un linguaggio che si appropria delle cose, che non guarda le cose per come sono, ma per come devono essere utilizzate. Un esempio molto semplice, se un poeta o un faligname vanno in un bosco, anche se il bosco offre le stesse piante e la stessa vegetazione, il poeta vede ciò che il bosco offre. Il faligname, quando guarda le piante, vede già armadi, sedie, tavoli, cioè le guarda sotto il profilo della utilizzabilità. E a questo proposito dobbiamo smettere di pensare che la scienza sia pura e che la tecnica è buona o cattiva a secondo dell'uso che se ne fa. La tecnica non è un derivato dalla scienza, non è ciò che viene dopo la scienza e non è valutabile solo a secondo dell'uso che se ne fa, perché la tecnica è l'essenza della scienza, perché la scienza non guarda il mondo per contemplarlo, la scienza guarda il mondo per utilizzarlo e per manipolarlo. Quindi l'intenzione della scienza è già tecnica, per cui dobbiamo parlare della tecnica come essenza della scienza e per usare la parola più semplice dobbiamo parlare di tecnoscienza. Non c'è una scienza pura, è una tecnica applicata. La tecnica è già nella qualità dello sguardo scientifico. Ma che cos'è propriamente la tecnica? La tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo. A proposito della parola razionalità o in generale della parola ragione, questa parola non è nata nell'ambito della filosofia, la parola ragione è nata nell'ambito dell'economia. La razio era quello che io ti dovevo dare quando tu mi vendevi qualcosa, mi dovevi dare la giusta corrispondenza del valore delle cose che io ti stavo dando. Redderazione, dammi l'equivalente del valore della cosa che io ti do. Ecco, dice Heidegger, noi al logos del pensiero aurorale, del pensiero iniziale, abbiamo sostituito la razio, che è un'equivalenza nello scambio, un'equivalenza di valori. E allora abbiamo un'economia regolata dalla razio, ovvero dall'equivalenza negli scambi. Per cui le cose non vengono guardate dal punto di vista del bisogno che esse soddisfano, ma semplicemente dalla loro capacità di scambiarsi tra di loro, secondo questa razio. Un esempio molto semplice è che un bicchiere d'acqua svolge la stessa funzione, quella di dissetare sia qui che nel deserto, ma qui non ha lo stesso valore di scambio che ha nel deserto. Nel deserto costerebbe molto di più. E allora se le cose valgono in funzione del denaro che producono, è chiaro che le cose vengono a loro volta snaturate, non più misurate sulla base del bisogno, ma misurate sulla base del loro valore, che non è nella soddisfazione dei bisogni, ma nella capacità di scambiarsi con altre cose di cui il mediatore è il denaro. Queste cose erano state in qualche modo già anticipate da Marx quando distingueva il valore d'uso e il valore di scambio. Ora sia l'economia, sia la tecnica, che sono i due grandi scenari dove funziona la razionalità, sono regolati da questo tipo di razionalità molto semplice, ma al tempo stesso molto semplice nella sua costituzione, ma molto pericolosa qualora dovesse diventare la forma unica di pensiero come giustamente a Heidegger denuncia sia già diventata. Razionalità tecnica consiste nel raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Questo modello è diventato anche il modello dell'economia, ma l'economia non è perfetta in questa razionalità, perché l'economia ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro, mentre la tecnica è del tutto esonerata da questa passione, per cui la tecnica non considera l'uomo neppure le sue passioni, è razionalità pura e i valori che diffonde sono esclusivamente i valori dell'efficienza e della produttività, nient'altro. Ora, se questa razionalità diventa la forma universale del nostro modo di pensare, noi avremo una progressiva esclusione dell'uomo dalla storia. Questa cosa i filosofi l'avevano già detta da un secolo, l'aveva detta Spengler, l'aveva detta Heidegger, l'aveva detta Jaspers, l'aveva detta quel discepolo di Heidegger che era Gunther Anders, l'aveva detta Severino. Cosa vuol dire che l'uomo è fuori dalla storia? Perché se adotta e questa adozione diventa universale unicamente la razionalità tecnica, bene, non dimentichiamo che l'uomo è anche irrazionale, perché è irrazionale il dolore, è irrazionale l'amore, è irrazionale la fantasia, è irrazionale l'immaginazione, è irrazionale l'ideazione, è irrazionale il sogno, tutte queste cose per la tecnica sono elementi di disturbo che vanno progressivamente messi a lato. Non solo, gli uomini diventano sempre meno soggetti di vita e sempre più funzionali di apparati. La nostra identità non è più qualcosa che ci caratterizza perché ci viene assegnata dall'apparato in cui siamo inseriti. e infatti la nostra identità viene spostata gradatamente verso il ruolo. La parola ruolo viene dal latino rotulum, era il rotolo su cui gli attori leggevano le parti loro assegnate. Bene, oggi se noi ci troviamo in una riunione e i convenuti ci dicono il loro nome, noi lo ascoltiamo e non ci dice niente quel nome. Quando ci danno il biglietto da visita in cui viene indicata la loro funzione, incominciamo ad orientarci. Allora l'identità dell'uomo viene spostata sul suo ruolo. È un'identità di ruolo che non dipende da lui avere, ma dall'apparato che glielo consegna. E quando l'apparato promuove il suo funzionario abbiamo un incremento di identità e quando lo rimuove un decremento di identità con tutte le conseguenze che ne possono derivare, le conseguenze negative. È cambiata persino la psicopatologia nell'età della tecnica. Se prendiamo per esempio una delle sindrome più pesanti, e Heidegger si è occupato anche di questo. Non è un caso che tutta la psichiatria fenomenologica fa appello ad Heidegger. E qui faccio una breve parentesi. Heidegger non definisce mai l'uomo uomo, eppure i tedeschi avevano la parola mensch e la parola men. Lui lo definisce in der Weltsein, essere nel mondo. Cioè io sono uno che è nel mondo. Anche questo paio di occhiali è nel mondo, solo che questi paio di occhiali sono nel mondo. Ma io sono nel mondo aprendomi un mondo. Questa è la differenza. Non insisto nel mondo. Non sono semplicemente dentro nel mondo. Esisto. sono nel mondo, ma lo vedo anche questo mondo. Rispondo al mondo. Reagisco agli stimoli del mondo. Mi sento impegnato dal mondo. Questa diventerà la struttura fondante della psichiatria fenomenologica, che ha le sue espressioni in Sartre, Jaspers, Merleau-Ponty, dal punto di vista filosofico. Bischwanger, Minkowski, Gebsattel. Qui in Italia abbiamo come massimo esponente vivente Eugenio Borgna. E non dimentichiamo Franco Basaglia. Il principio teorico di Basaglia nella chiusura dei manicomi è ancora heideggeriano. Come si fa a pensare di guarire coloro che non sono più nel mondo, perché vivono in un loro mondo, che sono appunto i folli, come si fa a promuoverli nel mondo rinchiudendoli? Basaglia era uno che conosceva bene la psichiatria fenomenologica, che è derivata proprio da questa concezione dell'uomo heideggeriano, per cui l'uomo è un essere nel mondo che apre un mondo. E io vivo non nel mondo come le cose, ma nel mondo a partire dall'apertura e dai significati che io do al mio mondo. Queste cose sono molto importanti. Forse qui ci potrebbe essere un recupero dell'umanesimo, anche se heidegger esclude che questa sia la procedura per cui si debba recuperare l'uomo dal momento che lui dice perché lo dobbiamo recuperare, dal momento che è diventato il padrone del mondo. Però è un uomo razionale, è un uomo inquietante perché non conosce un altro pensiero se non il pensiero che sa far solo di conto. Come si esce? Qui heidegger dopo aver esposto tutta la sua filosofia dell'essere nel mondo in essere e tempo, che è un'opera che forse è stata l'opera più commentata in tutto il mondo nel Novecento, è un'opera interrotta. E perché è interrotta? Perché dopo aver descritto che l'uomo è diventato il padrone del mondo a partire da Platone e successivamente sempre di più fino ad approvare la tecnica che Heidegger include nella metafisica, succede che per descrivere una nuova modalità di essere al mondo è necessario un altro linguaggio. E non possiamo smobilitare tutto il linguaggio metafisico che ha 2000 anni e allora si procede per tentativi. E quando Klosterman, l'editore tedesco pubblica tutte le opere di Heidegger, che sono 104 volumi, 104 volumi, Heidegger vuole che si è messo in apertura di questa raccolta di tutte le sue opere, l'espressione cenni non opere. Perché cenni? Perché bisogna inventare un altro linguaggio, un linguaggio che non sia il linguaggio della metafisica, che è un linguaggio che calcola, è un linguaggio acquisitivo, è un linguaggio che ha visto il possesso, che ha visto la rassicurazione del mondo. Ci vuole un altro linguaggio. E lui questo altro linguaggio lo va a cercare nei poeti. Hölderlin, Tracl, Stefan Georg, perché i poeti sono anche loro produttori. Noi dimentichiamo, purtroppo perché le nostre scuole non funzionano e quindi non sappiamo neanche da dove vengono le parole. La parola poesia, a cui Heidegger fa riferimento per trovare il nuovo linguaggio, deriva dal greco poiein. Poiein vuol dire in greco produrre. Ma però la produzione poetica non è la produzione tecnica. Che cosa producono i poeti? Producono un nuovo linguaggio. La poesia è una produzione di nuovi linguaggi. E allora lui fa ricorso alla poesia, la quale non può diventare un sistema filosofico. E non lo può diventare perché non è sistematico il linguaggio dei poeti. Loro lanciano parole nuove. E questo spiega innanzitutto perché Heidegger sia un accanito ricercatore di etimologie. E dall'altro perché non è possibile costruire una filosofia come sistema attingendo il linguaggio che ci proviene dai poeti, che è un linguaggio nuovo, un linguaggio non metafisico, non acquisitivo, non concettuale, che non ha in vista il possesso delle cose, che è libero, che si dischiude nell'aperto invece che nel chiuso del possesso. Questo linguaggio lui cerca di recuperarlo in un'altra grande opera che ha scritto e che ha intitolato Baitreghe, nota anche in italiano con questa espressione, che però tradotta significa contributi, contributi alla filosofia, aperta la parentesi, dell'evento, chiusa la parentesi, in tedesco Ereignis. Cosa vuol dire questo? Lo dice lo stesso Heidegger, siccome per farmi intendere devo usare un linguaggio noto, questa opera la chiamo contributi alla filosofia, però è una filosofia nuova. E dov'è la novità? Nell'evento, nell'Ereignis. Cioè i poeti fanno evenire un linguaggio nuovo che può essere il nuovo inizio, un nuovo modo di pensare che non sia il pensiero calcolante, che è il pensiero calcolante affermato dal mondo economico e dal mondo tecnico. Naturalmente questo libro è un libro che non procedendo sistematicamente, è un libro che lascia un po' tutti sospesi e allora qualcuno ha stabilito che Heidegger è diventato un confusionario o addirittura un mistico o addirittura un esoterico solo perché l'impostazione metafisica che è nella testa di tutti noi non ci consente di accedere a questo nuovo inizio che è l'attingere da quella produzione nuova di cui i poeti sono i portatori, che è la produzione di un nuovo linguaggio. Heidegger è stato anche oggetto di accuse fondate circa la sua adesione al nazismo e anche qui vale la pena di dire qualcosa. Adesione al nazismo e adesione all'antisemitismo. Per quanto concerne l'antisemitismo, io guardando bene tutte le cose non credo che sia stato antisemita. Primo perché lavorava con i suoi colleghi ebrei, secondo perché quando ha iniziato il nazismo ha cercato di sistemare tutti i suoi allievi ebrei in cattedre universitari o in incarichi universitari fuori dalla Germania. Fuori dalla Germania. Abbiamo una lettera rivolta a sua moglie in cui dice non ho mai guardato se uno era ebreo o ariano, ho guardato solo nei miei studenti chi era intelligente e chi no. Questo è l'atteggiamento di Heidegger. Sotto questo profilo lo posso anche capire, posso anche capire che le accuse di antisemitismo non sono granché fondate. Del resto che la Germania fosse antisemita è dall'Ottocento che lo era e tutti quanti pensatori, a partire anche dal famosissimo pensatore tedesco Schmitt, filosofo e sociologo, Gadamer dice ma il fatto stesso è che si sia innamorata di Anna Arendt che era ebrea, forse questa è la prova che proprio questo antisemitismo non era in lui fondato. Per quanto concerne invece la dimensione di nazismo, sì dobbiamo dirlo, Heidegger ha accettato la carica di lettore all'università perché quando Von Müller che era il precedente lettore è stato trasferito i professori hanno chiesto ad Heidegger di diventare lettore. Allora onda è evitare che il ministro della cultura tedesca mandasse un nazista a fare il lettore all'università. Heidegger ha accettato, ha accettato ed è stato lettore per otto mesi. In quegli otto mesi ha evitato di bruciare i libri degli ebrei, altra prova che non era antisemita e questo ha disturbato molto il ministro della cultura e tutti i professori nazisti che ormai avevano occupato le cattedre della sua università e lo obbligarono a dimettersi per mandare un rettore che fosse nazista al 100% e Heidegger a quel punto si è dimesso. L'idea che io mi sono fatto è che lui era assolutamente impreparato dal punto di vista politico. Dopo la guerra quando è entrato il comando militare francese ha esonerato Heidegger dall'insegnamento, l'ha mandato nella sua casa, però nella sua casa ha aggiunto altre due famiglie e Heidegger scriveva in una piccola cameretta senza libri perché i suoi libri erano stati tutti portati via dalla sua casa e mandata all'università di Magonza. Cioè nonostante lui non smette di scrivere, di pensare e di lavorare. Sempre nel comando militare francese organizzo una commissione per stabilire se Heidegger è o non è nazista e la commissione è composta da Romano Guardini, Carly Jaspers e Hartmann e tutti e tre convengono che Heidegger sì, è stato nazista. Dopodiché continua la sua assenza dall'università ma non si interrompe la sua attività di scrittura. Finché un giorno, finito tutto il nazismo, siamo negli anni 51-52, il rettore dell'università chiede a Jaspers se è il caso di reintegrare Heidegger nell'insegnamento. E Jaspers, con cui Heidegger aveva avuto una grande amicizia negli anni venti, interrotta nel 1933 quando Heidegger è diventato elettore dell'università di Friburgo, risponde a questo rettore dicendo si può essere riammesso perché se ci priviamo del pensiero di Heidegger e gli priviamo di pubblicare le sue opere, ci priviamo del pensiero più grande attualmente mondiale che abbiamo a disposizione. Ecco questo è Heidegger quindi con tutta la sua ambivalenza, con tutta la sua anche perché lui fondamentalmente che cos'era? Era un uomo che viveva in cima a una montagna, scriveva al lume di candela perché nella sua baita non aveva luce elettrica, scendeva con gli sci come ci ricorda Gadamer quando doveva insegnare, ha affascinato quantità incredibile di studenti, Gadamer ce l'ha dato ampia testimonianza, anche il suo modo di vestire era un modo di vestire da contadino, ripreso molto spesso dalle autorità accademiche che ritenevano si dovesse venire vestiti in un altro modo e il fashion che però esercitava su questi suoi allievi e la modalità con cui pensava, l'acribia con cui sfondava i testi della metafisica, la competenza filosofica ad altissimo livello, non ho alcun dubbio che sia il filosofo più grande del Novecento. Questa è la ragione per cui ho scritto questo libro su Heidegger e ho messo come sottotitolo il pensiero al tramonto dell'Occidente perché l'Occidente non potrà che tramontare perché non si può reggere una cultura e una civiltà su un unico valore che è il valore della nazionalità tecnica ed economica e allora del resto nella parola occidente è già scritto il significato di terra della sera, anzi i tedeschi lo esplicitano, chiamano l'Occidente Abendsland, terra della sera e dopo la sera arriva la notte e allora Heidegger si chiede andiamo precipitando verso la notte del mondo o c'è la possibilità di recuperare uno spirito europeo. Heidegger muore nel 1976 ma la sua visione profetica della tecnica quando all'epoca non c'era ancora l'informatica e la tecnica non aveva raggiunti i livelli che ha raggiunto oggi è stata una dimensione profetica secondo me non ancora superata ma troppo poco pensata. Grazie per la visione!